Non è sempre piacevole parlare del nostro intestino, perché i sintomi che avvertiamo quando c'è qualcosa che non va, possono essere particolarmente fastidiosi e persino un po' sgradevoli. Diarrea, flatulenza e costipazione sono soltanto alcuni dei sintomi più comuni legati a problemi di salute intestinale. Tuttavia, l'idea sbagliata è che per mantenere un intestino sano sia necessario seguire un lungo piano di disintossicazione o seguire una dieta restrittiva. Nella realtà, piccoli cambiamenti nelle nostre abitudini alimentari possono fare una bella differenza, aiutando il nostro intestino a diventare più efficiente nell'eliminare le tossine che si accumulano con la dieta. Uno dei modi più semplici per migliorare la salute dell'apparato digerente consiste nell'assumere succhi di frutta salutari, come quello che ti proponiamo nel video di oggi. Questo succo può aiutarti a migliorare il tuo apparato digerente, a favorire la funzionalità intestinale e a promuovere un processo di pulizia naturale. Per la ricetta servono Zenzero. Lo zenzero aiuta a ridurre il gonfiore addominale e la flatulenza ed è utile per chi soffre della sindrome dell'intestino irritabile. Mele verdi. Ricche di fibre solubili, le mele verdi migliorano la digestione. La pectina contenuta nelle mele verdi stimola inoltre lo sviluppo di una flora intestinale sana che favorisce la digestione. Limone. Il succo di limone è un ottimo aiuto per l'intestino perché contribuisce all'eliminazione delle tossine e stimola il movimento peristaltico, favorendo i movimenti intestinali. Sale marino. Il sale marino è rinomato per stimolare i movimenti intestinali e aiuta l'organismo a eliminare le tossine in modo efficace. Ecco la ricetta. Ingredienti. Mezza tazza di succo di mela verde. Se necessario, puoi usare quello rosso. Due cucchiai di succo di limone fresco. Un cucchiaino di succo di zenzero. Mezzo cucchiaino di sale marino di qualità. Uno tazza di acqua filtrate. Istruzioni. Primo. Comincia mettendo l'acqua in una pentola sul fuoco e scaldala lentamente, assicurandoti che non raggiunga il punto di ebollizione. L'acqua deve essere calda, ma non troppo per poter essere bevuta. Secondo. Versa l'acqua calda in un bicchiere e aggiungi il sale marino, mescolando bene finché non si scioglie. Terzo. Aggiungi al preparato il succo di mela, il succo di zenzero e il succo di limone. Per preparare il succo di zenzero, puoi grattugiare lo zenzero fresco e poi spremerne il succo. Quarto. Mescola bene tutti gli ingredienti e il tuo succo depurativo è pronto da bere. Questo succo aiuta a stimolare l'intestino, quindi potresti ritrovarti a dover andare in bagno più spesso. È consigliabile bere questo succo in un giorno in cui non hai molti impegni, per sicurezza. Questo è un modo naturale per aiutare l'apparato digerente e migliorare la salute generale dell'intestino senza modificare drasticamente la tua dieta.